Rip, non pensi di essere stato fortunato a lavorare in settori in crescita nel periodo giusto? Se ti laureassi oggi dove ti butteresti? Sì, ho già risposto a domande del genere. Qualcuno ha fatto, forse in una live recentemente, ho commentato un thread su Reddit, Italia Personal Finance, che criticava il fatto che tu la fai facile, ti sei laureato in un momento buono e sei entrato in Google quando assumeva tanto, ai tempi tuoi era facile, ai tempi tuoi è un par di palle, perché ai tempi miei, quando io diventavo maggiorenne, tra i 18 e i 30, il momento di crescita più forte, cioè mi sono diplomato come perito informatico, ho iniziato un percorso di ingegneria informatica e quando ero prossimo a laurea in ingegneria informatica, c'è stata .com, .com bubble. A 30 anni, nell'apice della crescita, c'è stata la Great Financial Crisis, quindi tanto fortunato direi di no. Cioè il timing della mia vita no, infatti è iniziata più tardi, io a 35 anni sono entrato in Google, se ne avevo 20 nel 2012, mai entravo in Google e avevo 15 anni in meno. Quindi tanto fortunato no, perché comunque quando io ho vissuto la mia prima parte della vita adulta, c'è stata due delle più grandi crisi economiche degli ultimi dal dopoguerra ad oggi? Sicuro, sì. Le due più grandi crash economici, crash finanziari dal dopoguerra ad oggi, le ho fatti uno che avevo 23 anni e l'altro che ne avevo 30. Quindi il massimo no. Poi certo sì, dopo ho cavalcato l'onda, sono entrato in Google nel 2012 e era sicuramente un periodo fertile. Non era facile entrare, cioè ho tanti amici miei coetanei che vengono da quartieri disagiati di Roma che non solo non sono mai entrati in Google, non sono manco mai entrati in un in Apple e neanche in un Apple Store perché non c'hanno manco i soldi per farsi l'iPhone. Quindi un po' di fortuna c'è stata, ma relativa. Se ti laureassi oggi, dove ti butteresti? Cioè la domanda è se oggi scegliessi l'università o se oggi mi fossi già laureato su cosa mi sarei laureato, quindi cosa avrei scelto tre o cinque anni fa? Diciamo se dovessi scegliere oggi eh Ho letto il grande Paul Graham Paul Graham Paul Graham sono scelto i tre nuovi esseri di Paul Graham due l'ho letto ieri sera How to start Google leggete questo è bello è bello è romantico è indirizzato a un quindicenne è un talk che Paul Graham fondatore di Y Combinator ha rilasciato a 14-15 anni su cosa fare ora che devono iniziare la loro vita adulta è il solito Paul Graham che parla di come fare start up di come iniziare una start up tech però è bello è bello è bello ci sento quell'odore di Paul Graham che che ti racconta che devi seguire la tua passione che è una super cazzola è una super cazzola però non starei troppo a pensare qual è il settore che mi dà più probabilità di avere successo cioè l'università devi devi seguire la tua passione mi spiace ma l'università devi fare una disciplina con cui farai l'amore per i prossimi 30 anni quindi non puoi scegliere in maniera opportunistica puoi fare delle piccole scelte all'interno in maniera opportunistica puoi scegliere se fare informatica o ingegneria informatica se fai informatica ingegneria informatica specializzarti in machine learning o in cloud computing o in cyber security embedded system così però la scelta della facoltà deve essere più devi abbracciare e sposare quel tipo di vita che farai per i prossimi 30 anni ti deve piacere ti deve piacere quindi io personalmente farei board game design ovviamente grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti